Ha solo 22 anni Davide Gasparini, l'età che tanti suoi coetanei scandiscono nelle serate tra gli amici e che lui trascorre invece in cucina, le prese con pentole, padelle, studio, ricerca e fuochi, quelli dei fornelli certo, ma anche quello ancora più incandescente che gli arde nel cuore. La passione culinaria, l'arte che lo accompagna da anni attraverso la gavetta a fianco dei cuochi più titolati e poi sfociata nel coronamento di un sogno, un locale tutto suo, aperto poche settimane fa insieme al socio Massimiliano a Cero di Laveno. Si riparte un po' da zero dopo il Covid, perciò abbiamo deciso questo momento per dare un'impronta diversa alla ristorazione con dei menù un po' più particolari, creando un'esperienza all'interno del ristorante. Tu hai solo 22 anni, dicevamo, ma qual è stato il tuo percorso fino adesso? Come ti sei formato? Allora, io ho finito la scuola 5 anni fa, ho fatto CFP a Varese, ho girato dei ristoranti qui in zona dal vecchio convento all'Etnic di Concagno, ho avuto delle esperienze a Lecce, da Brosch, che è quella maggiormente che mi ha formato. Qui è una località turistica, quindi immaginiamo tu abbia anche a che fare con turisti stranieri, con palati diversi, insomma. Cosa speri che un cliente si porti a casa dalla Dama del Porto? Quello che noi vogliamo trasmettere al cliente che viene qua al fine che si alzi da questa sedia è l'esperienza, perché non facciamo i piatti tradizionali, o meglio, li facciamo, ma sono tutti rivisitati. Perciò vogliamo trasmettere non solo la parte della cucina, dunque dal piatto che può essere buono o non buono, dipende ovviamente dalla scelta del gusto, e vogliamo creare proprio un'esperienza, dunque dal servizio, dall'accoglienza, dal modo in cui abbiamo di pensare, che è diverso da tutti gli altri, secondo me, in questo momento. È stato un buon inizio? È stato un buon inizio, anche se siamo fuori da una stagione, ma è stato scelto l'inizio così, per rodare bene e arrivare pronti alla stagione prossima.